Il giorno e la storia. Oggi è il 30 novembre. 1939. L'Urs invade la Finlandia e la guerra d'inverno. 1874. Nasce Sir Winston Churchill. 1999. Seattle. Proteste popolari contro il WTO. Commenta il fatto del giorno primo di Nicola, giornalista. Ci sono tanti uomini a cui l'Italia deve qualcosa. Uno tra questi è Enzo Tortora, giornalista, uomo politico, ma soprattutto vittima di una grandissima ingiustizia che ha patito sino alla morte. Ecco, questa è la storia di cui oggi ho scelto di parlarvi. Musica